Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi è una puntata un po' particolare perché introduciamo un servizio che fino adesso non abbiamo considerato perché non abbiamo l'esperienza in tutti i campi e quindi parlando appunto di luce ambiente, cioè di un qualche cosa che vada a migliorare l'estetica e il comfort all'interno dell'abitacolo, le luci ambiente sono una delle caratteristiche che ultimamente ci vengono richieste più spesso. Fintanto che non avevamo un'esperienza o quantomeno una collaborazione esterna, perché in questo caso si tratta di una collaborazione esterna, di persone competenti sull'argomento, ci siamo sempre astenuti perché ovviamente non vogliamo fare dei lavori non avendo appunto né le capacità, né la competenza, né la conoscenza di questo genere di argomenti. Finalmente abbiamo trovato un gruppo di ragazzi in gamba che si sono specializzati in questo tipo di lavoro, diciamo, in questo tipo di settore con il quale andremo a fare una collaborazione. Siccome le richieste che riceviamo per fare delle modifiche interne con queste luci particolari, poi ripeto, passerò poi il microfono a una di queste persone che vi spiegherà nel dettaglio, essendo molto più competente e molto più tecnico di me, vi spiegherà nel dettaglio in che cosa consiste questo genere di modifica. Io direi a questo punto ci possiamo trasferire da un'altra parte in officina dove passerò la palla a questa persona competente che vi spiegherà nel dettaglio tutte le caratteristiche di questa nuova attività. Un saluto, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, io sono Francesco e oggi vi presento il nostro kit per le luci ambientali. Prego. Molto semplicemente si attivano a quadro acceso e si hanno delle luci ambientali per la vostra autovettura. Ovviamente ogni autovettura si può completamente personalizzare in base alle esigenze del cliente. In questo caso noi abbiamo deciso di metterle sul cruscotto, porta guidatore e passeggero con un'aggiunta del cielo. Questo qui. Le luci si possono comandare molto facilmente da app, vi faccio vedere. In questo caso la mettiamo arancione, oppure blu, verde. Ci si può sbizzarrire. E volendo si possono cambiare anche le luci della portiera in base ai vostri gusti. Le luci comprendono strisce LED, luci portiera ed infine anche luce sottopiede. Anche essa completamente personalizzabile. Volendo possiamo impostare anche giochi di luce già prestabiliti. Come ad esempio questo. E abbiamo una moltitudine di giochi e di effetti luci diversi. L'applicazione è molto facile ed intuitiva. Con questi si controllano le strisce LED. E da qui si cambia il colore alle portiere. Ok. Volendo si possono anche spegnere. Per non avere problemi o... Nell'eventualità. Attualmente lavoriamo su macchine Audi, Volkswagen e Mercedes. Ma bene o male si possono mettere su qualsiasi autovettura. L'unica cosa è che andremo a vedere insieme al cliente dove posizionarle ed eventualmente dove metterle per appunto far sì che sia un bel effetto e che non vadino a intaccare la struttura originale della macchina. La centralina non va a intaccare in alcun modo il sistema operativo della macchina. Quindi non avrete problemi di spie accese o eventuali errori. Con questo ragazzi io concludo e adesso torniamo in officina da Luca. Spero che a questo punto dopo la parte di descrizione tecnica abbiate un pochino più chiaro quello che è il mondo del luce ambiente che è un settore veramente particolare che negli ultimi anni ha preso piede in maniera notevole. Per cui quasi tutte le macchine di serie che escono adottano questo tipo di soluzione per dare proprio un'armonia, un calore interno che fino a un po' di anni fa era veramente sconosciuto. Io spero che questo video vi sia stato utile per qualunque genere di informazione come al solito sapete dove trovarmi mi contattate in sede e vedrò di farvi dei preventivi ad hoc per le vostre singole esigenze. Alla prossima, un saluto! Alla prossima, un saluto! Alla prossima, un saluto!